Abbiamo visto il quadrato ruotato delle presentazioni, una base per prepararle al dovere, tenendo da conto tutte e quattro i punti che sono ugualmente importanti e quindi li tratteremo tutti con la giusta e la dovuta attenzione. L'audience però era non a caso in cima, forse perché è un pelo più importante degli altri. Il motivo? La vostra presentazione è fatta per loro. Se il vostro pubblico non riesce a capire l'idea e non la porta a casa con sé, tutto il resto diventa superfluo. Ecco perché iniziamo proprio dall'audience. Cosa dobbiamo fare per preparare una presentazione con in testa l'audience? Farci alcune domande su di essa. Ad esempio, chi sono? Partiamo dall'età. Età diverse richiedono dei modi diversi di presentare magari lo stesso concetto. Ad esempio, i teenager hanno...